L'obiettivo di questo corso è duplice. Una prima area tematica è quella dell'approfondimento della disciplina e dell'evoluzione normativa di quella vasta area di norme dedicate ai cosiddetti rapporti di lavoro flessibili che ormai sono diventate una componente stabile del contesto organizzativo delle imprese ed è quindi opportuno fare un punto ed indicare quindi lo stato dell'arte e le prospettive di sviluppo di questi istituti.